La sicurezza del Paese è affidata al Governo e quindi noi siamo certi che il Governo ha messo in campo tutte le iniziative per prevenire eventuali episodi di terrorismo e per proteggere chi è particolarmente a rischio. Quella pagina di ieri è stata una pagina tragica, colpire la stampa, colpire la satira, colpire la creatività e colpire l'essere umano nella maniera più profonda, quindi solidarietà assoluta alla Francia per il lutto che ha subito ieri.